Siamo qui con Francesca Folli, Sofia Migliorini e Sofia Cavalli. Esordio vincente per questa CLAI, un 3-2 sofferto e proprio per questo vale ancora di più. Sì, è stata una partita molto combattuta e in realtà noi eravamo pronti a una partita del genere. Poi i primi due set noi siamo stati molto bravi a esprimere il nostro gioco al meglio. Dopo loro ci hanno preso le misure, noi siamo calati un po', soprattutto in ricezione, mi hanno fatto un po' più fatica e imbattuta. Ci eravamo dati un obiettivo molto importante che i primi due set siamo riusciti a mantenere e dopo siamo calati un po' anche lì. Qualche errore di troppo, poi per fortuna nel quinto set ci siamo riprese e ce lo siamo portati a casa anche se combattuto. Sì, hai detto bene, è stata una partita davvero sofferta e probabilmente come ha detto Sofi ce lo aspettavamo, sapevamo sarebbe stata una battaglia, però nonostante tutto siamo riuscite a portarci a casa almeno due punti, quindi possiamo comunque ritenerci soddisfatte nonostante avevamo la possibilità di portarne a casa tre. È stata una partita molto bella, seppur molto difficile, sofferta, diciamo che sì, siamo state molto altalenanti, ci siamo perse in piccolezze che potevamo benissimo evitare, ma abbiamo fatto anche delle bellissime azioni che ci porteremo dietro, possiamo imparare tanto da questa partita. Infatti Cesena era pronta a rientro, era lì che aspettava, però siamo stati molto bravi e noi nella parte finale della partita a ricordarci un po' quello che avevamo studiato e a metterlo in difficoltà come è successo nel primo set. Cesena è una squadra che ha cambiato tanto rispetto a settembre, l'amichevole che abbiamo fatto qualche mese fa non è neanche, cioè non si può paragonare alla partita di oggi, loro sono migliorate tanto, hanno tanti colpi anche con i centrali, però ripeto, come ha detto guido, noi l'abbiamo preparata molto bene in settimana, i primi due set si è state molto brave a tenerle nei loro giochi più importanti. Noi probabilmente nel terzo e nel quarto set siamo calati un po' in copertura e abbiamo smesso di coprirci tanto come abbiamo fatto nei primi due set, per fortuna siamo riusciti a riprendere il nostro gioco nel quinto e di fatti ce lo siamo portato a casa. Grazie a tutti quelli che ci hanno seguito, mangiate i panini Klai mi raccomando, ci vediamo alla prossima, mangiate i panini Klai e ci vediamo alla prossima e un saluto a tutti, alla prossima.